Ciao, oggi rispondo a una domanda che ha fatto Jacobs in Discord, che è la piattaforma dove noi stiamo lavorando assieme. La domanda è relativa ai token, cioè l'utilizzo dei token come mezzo di pagamento degli alloggi nella piattaforma. È una domanda classica, cioè come risolviamo il problema della volatilità delle criptovalute. Come sapete le criptovalute non hanno un prezzo stabile rispetto agli euro, ci sono dei cali molto forti e degli aumenti molto forti, per cui diventa difficile se dovessimo incassare TRIPS, cioè i nostri token, poi pagarci le bollette, perché potrebbero valere 100 euro, 200 euro o 2 euro, quindi non è il massimo. Allora, la volatilità è un problema di tutte le criptovalute, compreso il Bitcoin, non è un problema al momento risolto, e quindi qualsiasi piattaforma basata su criptovalute deve avere una soluzione. La soluzione che si sta adottando a tutti i livelli al momento è semplicemente di non coinvolgere gli utenti, quindi nel caso nostro gli host e i guest nel mondo delle cripto, a meno che non lo vogliono loro. Quindi l'host classico dirà io voglio 100 euro a notte, datemi 100 euro a notte. Il guest classico dirà quanto costa in euro, 100 euro, perfetto, pago 100 euro. Farà un pagamento con carta di credito, di solito Paypal o quello che si farà alla piattaforma. La piattaforma passerà il valore esatto di euro all'host e per quanto riguarda gli utenti base, finisce lì. Poi in pratica quello che succede dietro le quinte è un cambio immediato da euro a cripto, da cripto a euro, che serve a comunque fare in modo che la piattaforma giri su criptovalute, ma a evitare appunto i problemi di cambio. Se il cambio è immediato non c'è rischio di volatilità, perché il tasso di cambio è quello che avviene nel minuto esatto in cui avviene la transazione, per cui ci si protegge. Detto questo, in una fase successiva possiamo già prevedere che alcuni host un po' più avanzati cominceranno a dire benissimo ho avuto 5 prenotazioni in euro, ho visto che il trips sta acquistando valore e magari la prossima pagamela in trips o pagamela parzialmente in trips, così diciamo scommetto sulla piattaforma se quei 100 trips valevano 50 euro oggi, forse tra un mese verranno 60, quindi ci sto guadagnando. Oppure diranno dammi dei trips, quindi dammi per esempio la metà della prenotazione e me la dai in trips, perché devo fare un viaggio e voglio prenotare sulla piattaforma trips pagando in trips, ok? Ci sarà negli anni, speriamo magari nei mesi, comunque negli anni ci sarà un uso sempre maggiore di criptovalute, per cui riusciremo alla fine tra X anni a non dover più passare per la valuta fiat, cioè gli euro, i dollari, quindi andremo anche a togliere dei costi. Questi costi di cambio contiamo appunto di comprenderli nella commissione pagata, quella molto bassa che andremo ad applicare, per rendere semplice agli utenti la gestione della piattaforma. Altre piattaforme a commissioni zero dicono che verranno addebitati questi costi al cliente, quindi è un po' complicato secondo noi, faremo una commissione che copre anche questi costi, proprio per semplicità.